6 ottobre 2024, il secondo Good Biker Fest a Palermo. Più di 55 motoclambi provenienti da tutta la Sicilia e moltissimi free bikers che parteciperanno saranno lì a far sentire il rombo delle proprie moto per dare un segno contro la violenza sulle donne. Ed è proprio così che abbiamo intitolato questa manifestazione Le due ruote contro la violenza delle donne. Come associazione culturale i Good Biker Fest a Palermo lavorano già da tempo sulle sociali e siamo pronti per affrontare questa grande manifestazione reduce comunque del successone del 2023 con la grinta e la tenacia di cercare di portare a casa un buon risultato. Siamo pronti come associazione culturale reduce del successone del 2023 a portare ancora le nostre moto tutte insieme in un unico raggruppamento per far sentire il rumore a chi di dovere basta contro la violenza sulle donne. Vi aspettiamo.